Il maltempo delle scorse settimane ha portato alla luce una certa fragilità del nostro territorio. In diversi punti della Romagna, svottamenti, allagamenti e tanti altri problemi di ordine geologico. E infatti oggi parleremo con il nostro ospite che è il presidente dell'Ordine dei Geologi. Benvenuto Pari De Antolini. Grazie dell'invito. Intanto c'è tanto da parlare oggi perché ci sono stati diversi problemi nelle scorse settimane, come ho un po' anticipato, in diversi punti del nostro territorio, sempre dovuti alla causa del maltempo. Non ci si aspettava una pioggia così. Beh sì, l'Emilia Romagna è una regione molto lunga che va da Rimini a Piacenza. E praticamente in ogni stagione, in qualche parte della nostra regione, il maltempo colpisse e lascia sempre le sue tracce. Beh, non si aspettava, non possiamo dirlo, cioè nel senso che non sappiamo quando questi eventi effettivamente arrivano e poi creano queste, diciamo, fragilità conclamate. Perché il nostro territorio, giustamente, come lei ha detto, è fragile. E noi geologi lo sappiamo benissimo e specialmente in questi anni non ci meravigliamo più di niente, ecco, di quanto sta succedendo. Ma alcuni hanno dato la colpa, i cambiamenti climatici, dicono che sono stati quelli che hanno portato tanta acqua. Invece mi sembra di capire che sono anche degli eventi ciclici, no? Allora, il cambiamento climatico che sia in atto, ovviamente c'è tutta un'equipe di scienziati che lo sta dimostrando. Però, se rimaniamo con quegli eventi che stanno succedendo, tutto sommato sono eventi che sono sempre capitati nel nostro territorio. Il problema è gli effetti che hanno sul territorio. Perché magari, se pensiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni, vivevano in un territorio dove era molto meno costruito, dove erano molto meno strade, molto meno abitazioni, per cui pioveva, pioveva forte, si allagava un campo, si allagavano i fossi e tutto questo disagio non si percepiva. Ora, a parità di piovosità, non si allaga più un campo, un fosso, si allaga una strada, si allaga un quartiere, si allaga una città, magari le frane non coinvolgono solo dei campi coltivati, magari coinvolgono anche delle abitazioni. Quindi è un carico antropico che l'uomo ha riversato sull'ambiente e noi ne paghiamo le conseguenze. Partiamo da Cesena, nella zona del Ponte Nuovo. C'è stato un innalzamento delle acque del Savio, allagamento verso il parco dell'Ippodromo, quindi un gran disastro anche a livello economico per il comune. Qual è stata la causa di questo allagamento? Tutto sommato, c'è andata bene, nel senso che noi consideriamo che sono state giornate in cui in Appennino ha piovuto molto. Dobbiamo sempre distinguere da fenomeni derivati da piovesità in Appennino e fenomeni che derivano da una piovesità più diffusa a valle, e quindi interessano i fossi e i corsi d'acqua minore. Nel nostro caso c'è stata una piovesità a monte per diversi giorni, piovesità anche importanti, che hanno quindi riversato sull'asta fluviale ingenti quantità di acqua. Questa ovviamente è arrivata a Cesena, a Cesena c'è un imbuto a un certo punto. Dal ponte vecchio al ponte della ferrovia l'alvio del fiume Savio si restringe alquanto. È praticamente incanalato fra due argini. Se noi consideriamo com'era la situazione di questo tratto dal ponte vecchio al ponte della ferrovia, andiamo indietro nei decenni, ma andiamo anche indietro nei secoli, erano zone dove il fiume praticamente esondava liberamente, quindi in tutto quello che era la zona dell'ippodromo, dove c'è il palazzetto dello sport, oppure nella zona del quartiere di San Rocco. Cioè erano zone in cui il fiume in questi eventi si allargava, esondava e quindi liberamente alluvionava queste aree che erano più o meno a vocazione agricola, magari con qualche abitazione. Adesso invece le abitazioni ovviamente hanno occupato queste aree, diciamo, che sono sempre nella cultura dell'uomo, le aree vicino al fiume sono sempre quelle, le aree pieneggiante, sono sempre quelle di un certo privilegio, si vanno a privilegiare. E quindi si è costruito, si è costruito tanto, ogni tanto sapendo sì che c'erano queste alluvioni, però diciamo il fiume lo si è costretto fra degli argini, tutte le volte che magari succedeva un alluvione si cercava di alzare l'argine o di rimodellarlo, e quindi è qui sempre una rincorsa fra l'acqua che da monte arriva verso valle e l'uomo che si deve difendere. Siamo arrivati a un punto che può darsi che la natura a un certo punto prenda il sopravvento e qualche volta può dire guarda uomo il tuo argine non è sufficiente, io devo tracimare. Invece a Forlì c'è stato il problema a Villafranca, anche lì l'acqua è venuta fuori, ha lagato diverse abitazioni, molte anche cantine sono state riempite dall'acqua, ho sentito anche delle situazioni perché sono andata a vedere, dove l'acqua è arrivata a 10 centimetri dal tetto delle cantine, lì in quel caso si parla anche di un problema tecnico. Sì, adesso in attesa di capire bene il problema tecnico perché almeno le voci che arrivano sono tante, visto che ci sono delle indagini in corso. Sì, perché si vuole sempre dare la colpa a qualcuno o a qualcosa. C'è chi ha dato la colpa, ho sentito anche a un istrice che avrebbe fatto la colpa. Quello che sarà, però noi sappiamo che quando noi abbiamo un argine, l'argine è un fattore a rischio perché è una costruzione artificiale, perché questo argine periodicamente deve contenere delle acque, perché queste acque periodicamente vanno a imbibire le terre e quindi anche questo argine subisse uno stress. E quindi è una costruzione che deve avere, deve essere sempre nel tempo monitorata e capire la sua funzionalità per quello che è stato costruito. Ora, se consideriamo che in Emilia Romagna non si tratta di avere qualche decina di chilometri di argini, ma abbiamo migliaia di chilometri di argini. Quindi capisce bene anche lei che voler e cercare di controllare tutte le migliaia di chilometri di argini, anche con tutta la nostra buona volontà, è un'operazione quasi impossibile. Ma detto questo, dobbiamo fare molto di più sul controllo e la manutenzione degli argini rispetto a quello che tuttora facciamo. Mentre nel Ravennate, anche lì, si è data la colpa alla tane di un animale, alle varie tane degli animali. È vero che questi animali possono veramente creare dei problemi negli argini dei fiumi? Beh sì, certo che l'argine del fiume è sempre un ambiente privilegiato per determinate specie animali. Però, dalla mia esperienza, da quello che a volte si sente dire e da quello che effettivamente poi è la realtà, insomma, è diventato un alibi questi animali. Perché è molto più facile dire la colpa di un animale che dire, beh, effettivamente qui non siamo riusciti a controllare, effettivamente in questo argini abbiamo lasciato crescere, sto parlando dell'argine, non dell'alvio. Quindi sull'argine abbiamo lasciato crescere piante che con le radici, bene o male, sono invadenti. Abbiamo lasciato degli algini sporchi con della vegetazione arbustiva in cui evidentemente l'animale riesce a costruire più facilmente le sue tane. Parliamo di algini che magari vengono poco monitorati o poco controllati. Quindi c'è tutta un'operazione a monte che deve essere fatta. Ma per essere fatta, capisce anche lei, che occorre un personale qualificato che, se io considero i miei colleghi geologi negli enti pubblici, fanno attualmente, col numero che sono, i salti mortali per poter, diciamo, fare e adempire a tutti i loro compiti. Mi sembra di aver capito che per prevenire queste situazioni ci vuole un controllo continuo negli argini dei fiumi. In più c'è un problema anche a monte, bisogna controllare quello che succede magari nelle zone collinari. Beh sì, allora, è chiaro che a monte la prima operazione da fare per evitare che a Cesena, a Ravenna, a Forlì, a Faens arrivi a un certo punto tutta quest'acqua, bisogna trattenerla a monte. Innanzitutto bisogna trattenerla in che maniera? In forma naturale e il primo elemento naturale che trattiene queste acque sono i boschi. Quindi avere un appennino con dei boschi integri, e per boschi integri intendo boschi con anche sottoboschio e anche boschi ad alto fusto, è determinante perché pensare a tutto l'habitat ecologico che si crea in un sottobosco, dal tronco che cade all'arbusto che cresce, ognuno di quegli elementi trattiene un po' di acqua e non la rimanda subito e immediatamente verso valle. Detto questo poi arriviamo alle zone coltivate. Le zone coltivate sono zone dove l'agricoltura deve applicare delle tecniche di regimazione delle acque adeguate. Ci sono zone che sono a rischio frana e in queste zone ci vuole una regimazione che allontani il più veloce possibile le acque dai territori. Dall'altra parte, se io allontano le acque velocemente, le riverso poi più velocemente nell'asta fluviale e queste acque arrivano più velocemente verso valle. E già questo che le dico capisce l'equilibrio che a volte bisogna trovare. E quindi è un equilibrio che va gestito fra diverse professionalità, dove non interviene solo il geologo, interviene anche il forestale, intervengono altre figure professionali che insieme devono poi gestire questo territorio per renderlo, metterlo in sicurezza. Parliamo anche della costa, perché per ora abbiamo parlato dell'entroterra. Anche la costa in un certo senso è fragile. Vediamo ogni anno un abbassamento del livello della terra e il mare che avanza e comincia a mangiarsi le spiagge, il territorio. Anche questo è un problema che si può in un certo modo arginare? Beh, è un problema conosciuto. Noi la scorsa settimana a Ravenna abbiamo organizzato un convegno sulla subsidenza. Sono venuti i maggiori esperti tecnici dell'Emilia Romagna e il risultato è sempre quello che poi appare da questi convegni workshop. C'è una subsidenza che abbassa continuamente il territorio e quindi perdiamo il suolo rispetto al livello del mare che si abbassa sempre di qualche millimetro o un centimetro all'anno e c'è una tendenza del livello medio merino ad alzarsi. Quindi tutto questo cosa comporta? Comporta che nel tempo abbiamo dei territori nell'entroterra che hanno un dislivello rispetto al mare sempre minore e vi sono territori attualmente sotto il livello del mare che andranno sempre maggiormente sotto il livello del mare. Ci sono territori che attualmente sono abitati perché esiste una rete gestita dal Consorzio di Bonifica che allontana le acque in maniera artificiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che le acque vengono mandate nei canali. A un certo punto ci sono delle idrovere che funzionano con motori diesel o elettricità e quest'acqua viene pompata verso mare. Quindi è un sistema, capisce anche lei, che di naturale non ha più nulla. È un sistema artificiale e delicatissimo che a volte noi ci dimentichiamo. Perché basta un incidente, basta che si intoppi qualcosa, ecco che il territorio va sott'acqua. Ma basta anche una piovosità, e in questo caso non in Appennino ma in pianura, un po' diversa dal solito, quelle che a volte vengono definite bombe d'acqua, lo devo utilizzare così ci capiamo meglio. Ecco che vediamo questi allargamenti, come è successo nel Modenese o in altri territori della pianura, dove a un certo punto piove talmente tanta acqua che questa rete artificiale non la riesce più a gestire. Mi sembra di ricordare qualche anno fa il mare nella zona dell'Ido di Siavia ha invaso proprio l'entroterra, anche lì allagando le case. Si parlava addirittura di un metro d'acqua, quindi anche lì il mare che avanza. Questo è un fenomeno perché ovviamente quando ci sono delle condizioni di vento, di marea, che consideriamo l'Adriatico nella nostra zona, se uno geograficamente ci pensa, quindi quando ci sono questi innalzamenti del mare, ci sono quindi, avvengono con questo maltempo, questi venti, queste mareggiate, con un territorio piatto, è chiaro che c'è un'ingressione marina nell'entroterra con i relativi danneggiamenti. In futuro di questi eventi ce ne dobbiamo aspettare sempre di più, non è che possiamo pensare che in futuro le cose verranno mitigate o ci saranno periodi migliori, no, anzi, dobbiamo aspettarci e dobbiamo affrontare questi momenti sicuramente con più frequenza. D'altra parte abbiamo costruito a livello del mare, dice un cittadino, cosa posso fare? I casi sono due, o sposti la tua casa oppure la dovresti innalzare, se ti arriva a un metro di acqua in Viale Carducci, a Cesenatico, è chiaro che le case si allaggono e in questi casi, insomma, le difese umane a volte non riescono a sopperire a determinati eventi, insomma, e quindi il cittadino è bene che si informi, che stia sempre informato e segui un po' quei corsi che fanno i gruppi di protezione civile, che sono gruppi volontariati, in modo da sapere che quando ci sono questi momenti, queste allerte gialle, queste allerte rosse, magari non stiamo in cantina, non stiamo al piano terra, cerchiamo di avere la possibilità di accedere a dei piani più elevati. Possiamo dire anche che si è costruito senza una minima visione del futuro o magari senza studiare il territorio in modo approfondito. Beh, è chiaro che nel dopoguerra c'era questa necessità di, dopo tutto quello che avevamo passato, di ripartire, quindi si è costruito così, cercando un po' alla bene meglio. Negli ultimi anni si hanno le conoscenze, poi c'è anche questa, diciamo, forma di consapevolezza di quello che è stato fatto e di quello che sarà, per cui il nuovo costruito lo si cerca di costruire con tutti i criteri, ma anche tutti gli enti che attualmente agiscono sul territorio e quindi devono anche intervenire e prevenire questi fenomeni, qual è la regione, i comuni, la provincia, i consorsi di bonifica, sono tutti attivati per porre un argine a questa situazione, però è una situazione abbastanza difficile e difficilmente recuperabile nel breve termine. Lei ha parlato di figure professionali che entrano in campo per studiare il territorio, tra i quali anche i geologi, una figura anche poco conosciuta dal semplice cittadino che magari non ha a che fare con queste questioni. Beh, il geologo, noi in Emilia Romagna siamo 750 iscritti a un albo. L'albo professionale dei geologi ha una vita di 50 anni, quindi devo dire che 50 anni fa è stato istituito l'albo professionale. Quindi diciamo che in una dopoguerra in cui si cominciava a costruire, ritorno sempre alle origini, in cui si cominciava a costruire senza nessun criterio, a un certo punto ci si è accorto che costruire un edificio, costruire un ponte o un condominio, non era importante solo la struttura, ma anche ciò che era sotto la struttura, quindi il suolo, ciò che ci stava vicino alla struttura, i fiumi, se c'era una frana. E quindi l'interazione fra la costruzione e il territorio è diventata una necessità di studio, per cui noi studiamo come geologi proprio l'abitat, il territorio, il suolo, in cui questa costruzione che l'ingegnere o il geometro o l'architetto si presta a costruire deve inserire. Noi diamo tutti le nostre indicazioni, le nostre osservazioni, i nostri criteri metodologici di costruzione, a volte sono osservati, a volte passiamo un po' per brontoloni, perché noi siamo sempre un po' scomodi, perché siamo quelli che dice lì non si può, attenzione, ma cosa vuoi che sia, ma non è mai successo niente, perché la cosa che si sente dire maggiormente quando andiamo da un cliente, specialmente dal privato, che vuole costruire una casa, che lui ha già deciso che la vuole costruire lì perché gli piace quel posto e tu gli dici, ma guarda che c'è una frana, non si può, ma non è mai venuto giù niente, cosa vuoi che sia, perché non sa che una frana si potrebbe, una frana è per sempre, cioè se c'è una frana che al momento è stabile, quella frana che al momento è stabile, in determinate condizioni può benissimo riattivarsi e quindi quella costruzione che uno fa su quel versante viene praticamente demolita dal movimento di terreno. Questo è un po' il lavoro che fa il geologo, capire quelle sono quelle porzioni di territorio meno fragili, dove si può costruire con determinati criteri, ma anche capire dove intervenire in quelle parti di territorio per renderlo meno fragile e specialmente in un momento come questo dove c'è questa antropizzazione del territorio cercare di rendere l'interazione cittadino territorio compatibile. Molto importante che il lavoro del geologo con le istituzioni in questo caso quando succedono questi problemi oppure ci sono dei momenti in cui bisogna monitorare il territorio la presenza del geologo è fondamentale. Beh sì, allora noi abbiamo tanti geologi negli enti pubblici. C'è uno slogan che alcuni miei colleghi adottavano qualche anno fa che dicevano un geologo in ogni comune. Io farei un passo in avanti direi che visto che ogni comune difficilmente fa fatica ad assumere un geologo perché ci sono comuni piccoli Cesena ce l'ha ma altri piccoli comuni obiettivamente non ce la fanno fanno fatica addirittura pagare il loro tecnico presente nell'ufficio. Io direi che in questa unione di comuni di Vallata ci deve essere sicuramente un geologo ma ci deve essere a fianco al geologo anche un ufficio capace di gestire un territorio di Vallata e quindi ci deve essere il geologo ci deve essere il geometra l'ingegnere l'architetto e allora quando c'è un ufficio ben strutturato io credo che tutto il territorio ne ha un beneficio quando ci sono persone che lavorano in equip sicuramente le soluzioni le trovano e il politico ne è anche un po' più rassicurato sapere che alle sue spalle c'è chi gestisce il territorio in una determinata maniera. Si formano molti geologi in Emilia Romagna ogni anno? Beh diciamo che come tutte le professioni tecniche negli ultimi anni hanno avuto una certa crisi cioè nel senso noi nel nostro albo registriamo un decremento dell'iscrizione non un incremento ciò è dovuto in parte alla crisi economica e in parte anche a una crisi della vocazione perché il lavoro del geologo è un lavoro diciamo deve piacere non è come un altro lavoro che qualcuno lo fa perché vabbè c'è quel lavoro lì faccio questo corso di studi e poi dopo do l'esame di stato mi scrivo l'album purtroppo sei a contatto con la terra ti deve piacere di prendere la terra in mano ti devi sporcare devi camminare devi insomma essere curioso di capire la terra anche se il lavoro del geologo sta anche cambiando cioè non è solo il geologo che va in campagna ma c'è anche una professionalità che si occupa dei GIS quindi dello studio della cartografia del telerilevamento delle analisi di laboratorio quindi è un settore che negli ultimi anni si sta ampliando e si è ampliato molto quindi diciamo per un giovane che voglia fare il geologo consiglio di informarsi perché i settori sono interessanti e sono ampi molto vasti e sicuramente nel futuro potrebbero dare anche delle soddisfazioni potrebbero anche servire più geologi in futuro a quello sicuramente una cosa che è sicura che negli enti ci sono pochi geologi e questo è effettivamente il problema perché se in ogni comune non dico i piccolini ma almeno quelli più grandi se in ogni unione di comuni ci fosse un geologo e quindi questa professionalità fosse diffusa probabilmente anche le altre professioni sarebbero maggiormente sensibilizzati sulla gestione di interventi del territorio perché noi vediamo a volte interventi che vengono fatti sul territorio che ti viene da dire ma cavolo ma qui non hanno sentito neanche un geologo perché si vede benissimo che sono incongruenti sono scelte incongruenti con quella che è la la geomorfologia del territorio è un po' quello che la mia diciamo mio pallino quando vado a trovare gli assessorati o i vari sindici cerco sempre di predicare la presenza e l'acquisizione di un geologo nelle loro funzioni di strutture pubbliche però capisco anche che al giorno d'oggi questa economicità e quindi quando si cerca di assumere qualcuno lo si cerca sempre di assumere per qualcosa che serve nell'immediato cioè il ragionamento di fare un ragionamento nel futuro e quindi di dire serve il geologo perché noi a parte la gestione del territorio nell'immediato dobbiamo dare anche una gestione al territorio nel futuro e quindi anche un senso di quello che facciamo perché quello che facciamo poi come tutto quello che è stato fatto nel dopoguerra noi adesso lo stiamo gestendo e quindi ne stiamo pagando anche le conseguenze così cominciare ad avere il coraggio perché bisogna avere anche il coraggio di gestire il territorio in una determinata maniera e quindi avere il coraggio di dire dei no di recepire dei no perché se il geologo ti dice no qui non si può è inutile che andiamo avanti e cercare in tutte le maniere la strada per riuscire a farlo ugualmente perché molto spesso succede questo cioè un determinato visto un determinato territorio con un determinato problema in cui c'è magari un no preventivo del geologo negli anni si cerca sempre la strada di riuscire poi a fare qualcosa trovare sempre il sistema legislativo per riuscire a intervenire e questo non è un problema di una fazione politica è un problema di tutta la politica infatti io quando sento quando avvengono queste situazioni avendo poi la conoscenza un po' del tutto il territorio italiano che si dà la colpa alle varie fazioni politiche a me scappa da ridere perché purtroppo è un vizio italiano e quello di riversare la colpa sempre al politico del momento o a quello di prima è un brutto vizio che dobbiamo smetterlo di usarlo ecco bene siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione è stata veramente molto interessante quindi abbiamo capito anche qual è il lavoro del geologo quindi la ringrazio per essere stato con noi grazie a lei ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguiti arrivederci a tutti alla prossima grazie a tutti Autore dei sorrisi